... Silvia e Alessi, una nuova mostra per un nuovo progetto. Ci racconti un po' qualcosa? Sì, allora, questo mio progetto, il titolo è Decat, è nato principalmente perché io come professione faccio il parrucchiere e dopo un po' di tempo ho avuto l'estremo bisogno di vedere la materia, che è il capello, da angolazioni diverse. E questi progetti mi hanno portato in diverse parti del mondo e questa esperienza che ho vissuto a Lanzarote, in India, in Iraq e in Pakistan mi ha messo in luce ancora di più che il capello ha potere. Ma soprattutto ha un significato politico, religioso, intimo, quindi legato anche alla mancanza di non avere i capelli. Ha anche un significato ambientale perché con i capelli ci possiamo anche ripulire i mari dagli sversamenti di petrolio. Quindi veramente il capello ha mille sfaccettature. Diciamo anche economica? Anche economica perché, allora, economica soprattutto, diciamo, questo aspetto l'ho visto in India perché dall'aspetto spirituale del donare i capelli, questi capelli poi vengono acquistati dalle multinazionali per fare le extension e parrucche. Quindi le extension sono, diciamo, il business economico. Le parrucche, invece, possono servire anche per motivi curativi, quando ci sono le malattie come il cancro. Quindi diciamo che gli aspetti sono diversi. Grazie Silvia e verremo a vedere allora la tua nuova mostra. Grazie mille. Grazie a voi.